Un gelese di 40 anni, Fabio Argenti, è stato ferito a colpi di fucile la scorsa notte nella zona di via Rio de Janeiro. Subito dopo l'accaduto, l'uomo, che a alcuni precedenti, è stato condotto all'ospedale Vittorio Emanuele di Geles, sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti del caso e i primi sospetti si sono indirizzati su un uomo di 56 anni, con precedenti anche per accuse di mafia. I militari dell'arma hanno eseguito i controlli per individuare tracce di polvere da sparo, sequestrando anche alcuni indumenti. Ora si attendono gli sviluppi dell'inchiesta coordinata dalla procura di Gela.